Salve a tutti, in questo video vediamo come ottenere i frammenti di stella su Animal Crossing New Horizons. Si possono ottenere durante le nottate limpide, quando non ci sono nubi. Dobbiamo semplicemente utilizzare la levetta destra e alzare il nostro sguardo al cielo, appunto di notte, e bisogna solo aspettare che scendano le stelle. Io vi dico, in teoria dovrebbe essere così. In pratica io non le ho mai viste fino a che Fuffino mi ha avvertito che quella sera ci sarebbero state stelle cadenti. Ed ecco qua, vedete, in questo caso ad esempio ne ho trovata una, quindi ho premuto A. E non uscite subito dalla schermata perché ce ne sono diverse a fila. Quella notte ne ho trovate tante. Ecco qua, secondo tentativo. E ne arriva una, quindi A, ancora A, due. Quindi arrivano anche in sequenza, aspettate. E non potete raccoglierle subito, dovete aspettare il mattino seguente. Troverete i frammenti di stella sulla spiaggia e qua li potete recuperare. Eccone uno giallo, poi più avanti ne ho trovato anche di rossi. Eccolo qua, frammento di stella.